Somma Campagna torna ad abbracciare il grande ciclismo per celebrare la settantesima edizione della medaglia d'oro fiera di Somma Campagna. Regia organizzativa della polisportiva Caselle Rossetto che ha messo in cantiere una manifestazione in grado di richiamare alla via ben 180 atleti Elite Under 23 chiamati a misurarsi sulla distanza dei 129 km. Dieci le tornate da compiere, le prime nove da ripetere tutte in senso contrario rispetto al rettifilo d'arrivo e poi l'ultimo giro che consentirà al gruppo di cambiare direzione e quindi giungere in salita sullo storico traguardo di Somma Campagna. Una classica infrasettimanale quella di Somma Campagna che anche quest'anno ha offerto diversi spunti di interesse. Primi chilometri con il gruppo che viaggia a ranghi compatti ma non manca molto allo scoccare della bagarra. Una manifestazione decisamente interessante dicevamo quella allestita dalla polisportiva Caselle e supermercati Rossetto del Presidentissimo Cesare Braggio che nel riproporre questo evento dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19 ha incontrato anche il pieno appoggio dell'amministrazione comunale di Somma Campagna che in occasione della tradizionale fiera cittadina ha voluto riportare su queste strade anche il ciclismo ed è una giornata di sole davvero spettacolare quella che hanno regalato i migliori Elite Under 23 del panorama nazionale. Intanto con le nostre immagini ci spostiamo al chilometro 30 quando a prendere il largo è un'azione di sette corridori. A comporre questo trappello di fuggitivi ci sono Matteo Baseggio della Trevigiani Energia Pura Marchiol, Lorenzo Fraccaro della Carnovali Rime Sias, Francesco Parravano della Campana Imballaggi Geotex 2000, Lorenzo Ginestra della Work Service Vital Care Videa, Martin Nessler del gruppo ciclistico Sissio Team, lo spagnolo Ruben Sanchez Esteves del team Colpac Ballan e il piemontese Luca Zanni della Overall Trecolli. Questi sette corridori evadono appunto dopo una trentina di chilometri e rimangono al comando per diverse tornate. Il gruppo però non lascia loro troppo spazio, infatti il vantaggio come si vede benissimo in questa bellissima inquadratura si aggira attorno al minuto. Sono tante le squadre che sono rimaste escluse da questo primo tentativo di fuga di giornata e mentre in gruppo ci sono ancora tante energie quindi sono davvero numerosi gli scatti che si susseguono in testa al plotone per tentare di riportarsi sulla prima vera azione di giornata. Una corsa sempre vivace, sempre spettacolare che tiene sulla corda delle emozioni il pubblico scaligero, quella di Sommacampagna non potrebbe essere altrimenti quando si gareggia su un tracciato così bello, aperto e impegnativo come quello ricavato sulle colline tra Sommacampagna e Custoza. La fuga dei primi sette atleti che sono andati in avascoperta va esaurendosi ma è una continua bagarre quella a cui si assiste in testa al gruppo. C'è un rimescolamento delle carte e a questo punto ad evadere è un gruppetto ben più folto composto da ben 16 atleti. Questi 16 corridori nell'avvolgere di poche tornate riescono a guadagnare un vantaggio importante sul gruppo che raggiunge anche il tetto massimo dei due minuti e mezzo, ormai un gruppo che inizia ad accusare la fatica e soprattutto nel drappello dei 16 battistrada sono rappresentate tutte le principali formazioni che si erano schierate ai nastri di partenza. Andiamo a scoprire la composizione del drappello di testa che vede al proprio interno Nicola Sagostini della Trevigiani Energia Pura Marchiol, Elia Tovazzi, Federico Biagini e Giuseppe Aquila della Carnovali Rime Sias, Lorenzo Elipanni della Campana Imballaggi Geotex 2000, Marco Gazzola della Beltrami TSA, quindi Simone Carrò e Marco Colombo della Aries Cycling, Leonardo Gianni e Daniel Nastasi della Overall Trecolli, Tommaso Rigatti e Martin Nessler della Sissio Team, Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli, il danese Magnus Ennenberg della Ciclistica Rostese, quindi la coppia della Work Service Vitalker Videa composta da Eric Paties Montagnere e Cristian Danilo Pase ed infine Simone Grigion della Zalfero Mobile Desiree Fiore. Con questa situazione 16 atleti al comando e il gruppo ad inseguire ci si avvicina all'epilogo della settantesima medaglia d'oro fiera di somma campagna, un epilogo che sembra sempre più assumere i toni dell'arrivo a ranghi ridotti. Suona la campana sul rettifilo d'arrivo di somma campagna e a transitare in testa con diversi scatti e ancora il drappello dei 16 attaccanti. Gruppo ormai tagliato fuori dai giochi per il successo finale, saranno questi 16 corridori ad andare a giocarsi il successo nell'edizione 2022 della classica di somma campagna. Testa a testa lunghissimo tra Martin Nessler e Gabriele Petrelli ed è proprio il Trentino della Sissio Team che va ad aggiudicarsi il primo storico successo per questa formazione. Secondo posto per Leonardo Gianni della Overall Trecolli, quindi a terza piazza per Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli. Completano la top 10 Simone Carrò dell'Aries Cycling, Simone Grigion della Zalfero Mobile Desiree Fiore, Federico Biagini della Carnovali, Tommaso Rigatti della Sissio Team, Elia Tovazzi della Carnovali, Magnus Ennenberg della Rostese e Cristian Danilo Pase della Work Service. E ora microfoni per i protagonisti di giornata. Una gran bella volata, che dire? C'è poco da dire, quello che avevo più gambe e insomma mi ho saltati. Prima vittoria stagionale, a chi la dedichiamo? Alla mia famiglia, ai miei genitori, alla mia fidanzata Sara, Marco che mi ha dato fiducia e mia nonna che è morta e tutte le persone insomma che mi vogliono bene. Chi temevi di più oggi? Ma sinceramente non ho guardato i partenti. Quando sei accorto che la gamba c'era e potevi farcela? Ma all'inizio, già dopo 3-4 giri perché ero già in fuga e sentivo la gamba che spingeva, alla fine era abbastanza stanco però insomma è andata bene. Le soddisfazioni arrivano dopo tanto sacrificio, no? Sì, direi proprio di sì e questo è stato il ricompenso di tanti sacrifici, di crescere, aspettare i ragazzi, dare fiducia e soprattutto fare le cose fatte bene in maniera esponenziale. Penso che vincere a Verona per noi è qualcosa di importante perché da lustro cominciamo a essere una realtà vera da far tenere presente a tutti. Ho visto anche tanta felicità per te quindi concludiamo, come dire, un po' a sorpresa ma probabilmente con questa vittoria inaspettata ancora più bella. Bene, sono contentissimo perché la vittoria Marco se la merita, se la merita perché l'impegno che mette è il papà di un mio corridore che ce l'ha nel cuore, Nicola. Quindi sono contentissimo che abbia vinto Marco e dopo un bel corridore comunque. Una gran bella manifestazione, no? Sì, una gran manifestazione, fa parte della nostra tradizione, della tradizione del nostro comune. Il nostro è un territorio che si presta bene per questa gara di professionisti e anche un territorio che si presta bene per chi fa ciclismo amatoriale. Vi aspettiamo tutti qui sul nostro territorio, un bel giro in bici in splendidi panorami, splendidi paesaggi.